Prosegue l'avventura oltreoceano della delegazione aretina composta dalla Potipixos e dalla Caritas Diocesana. Un'emozione importante anche per questa realtà aretina che probabilmente come la stessa Potipixos non si aspettava agli inizi di vivere un sogno, un vero e proprio sogno. Addirittura confermato dal bel successo di ieri presso il Dipartimento di Lingue dell'Università di Denton, abbiamo fatto un workshop dove abbiamo potuto presentare il progetto e tutte le attività che come Caritas abbiamo promosso, concentrandosi poi sull'attività portata avanti in particolare da Daniele. Ci stiamo rendendo conto, ci stiamo confrontando che siamo veramente arrivati a sconvolgere un po' la logica di approccio alla disabilità. Qua negli Stati Uniti, qua in Texas, sono linguaggi nuovi e forse proprio per questo ci stanno apprezzando. Avete gettato anche le basi per un ritorno probabile proprio in Texas, apprezzato anche un altro corto, in questo caso come se? Sì, abbiamo fatto vedere, partendo da come nei film, quello che è il nostro progetto, come diceva Andrea, e il lavoro della Potipicchers. Abbiamo fatto vedere come se, e ha riscosso molto successo, è piaciuto molto, perché è un tema a loro caro comunque, anche il tema delle ballere architettoniche. E' piaciuto molto questo contrasto tra la realtà e il sogno, ben rappresentato da Ilaria, e hanno detto, ecco, questo sarebbe perfetto per il team line, perché non l'hai mandato. Infine, a confermare che le cose in America stanno veramente andando bene, c'è anche Tiziano Barbini, uno dei protagonisti del corto selezionato. E' stata una gran penitenza, un gran successo.